risposte punto f attraverso francesca r 8 ottobre 2022 e come noti ti sto facendo notare palesemente apertamente l'aspetto della risposta e del significato della risposta puoi spiegarti meglio fortesemente che ti do una risposta e poi ti spiego che ti do una risposta che non non è da prendere come un diktat o da seguire pedesicumamente ma è da stabilizzante perché deve permetterti di compiere i passi da sola non sottodettami di qualcun altro come giusto che sia come deve essere ma soprattutto per alcuni deve essere così proprio perché verrebbero a seguire esattamente le parole che vengono dette qui in questa sede senza fare un'azione per sentire e l'azione fatta per sentire non è mai quella facile no grazie a tutti Grazie a tutti